Lei non sembra aver capito in quale campo lavora. Non è l'hamburger il suo campo. Il suo campo è l'immobiliare. Non si fonda un impero con l'1,4% su un hamburger da 15 centesimi. Lo si fonda possedendo il terreno sopra il quale quell'hamburger si cuoce. Quello che lei dovrebbe fare è comprare dei lotti di terreno. Dopodiché dare in concessione i suddetti lotti agli affiliati che come condizione dell'accordo potrebbero locare terreni da lei e da lei soltanto. Questo le porterebbe due cose. Uno, un solido immediato flusso d'entrata. I soldi arrivano prima che venga piantato il primo paletto. Due, maggior capitale per l'espansione che a sua volta finanzia l'acquisto di altri terreni che così finanziano una maggiore espansione. E così via. E così via.